Il Centro per l'impiego di Albenga cerca un addetto alla vendita per negozio di Albenga. Requisiti richiesti, titolo di studio, diploma di maturità, età minima 20, massima 35 anni, esperienza richiesta almeno un anno, contratto proposto, tempo determinato, part-time. Il Centro per l'impiego di Carcara cerca un saldatore per azienda di Cairo Montenotte. Requisiti richiesti, titolo di studio, assolvimento, obbligo scolastico, necessario patentino di saldatore, patente tipo B, riservato agli iscritti o 20 titoli all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio e i sensi della legge 68 del 99, contratto proposto, tempo determinato, full-time. Il Centro per l'impiego di Savona cerca un addetto alla lavanderia per lavanderia secco di Savona. Requisiti richiesti, titolo di studio, obbligo scolastico, esperienza richiesta tra i 2 e 5 anni, età minima 18 massima a 55 anni, contratto proposto, tempo determinato, part-time. Le persone interessate alle posizioni lavorative offerte potranno dare la propria adesione alle richieste di lavoro recandosi presso il Centro per l'impiego di appartenenza munite di curriculum da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, oppure aderire alle offerte di lavoro facendo pervenire il curriculum tramite fax o email con il codice di riferimento corrispondente all'offerta. È disponibile sul sito Formalavoro la chiamata pubblica riservata ai percettori di ammortizzatore sociale per la città di Albenga che cerca 4 operai specializzati nelle figure professionali tecnico-manutentive, data chiamata dal 25 febbraio 10 marzo 2015. Per tutte le informazioni consulta il sito Formalavoro.